19 centimetri di lunghezza, 129 euro solamente Andiamo adesso, ne ho ancora un po' di queste cosine, guardate questa che amore che è Questa è una chanellina con oro giallo 18 carati e zafferini briolet Una cosina Ce ne sono Caduto, caduto il collegamento E andiamo oltre con, saliamo un pochettino Ecco Adesso arriva, arriva È bella, 81 centimetri, è maglia alla marinara amiche, è una gran bella chanella, 1380 veramente un regalo State ricevendo cari amiche un vero e proprio regalo Ditemi se c'è, è della scorsa si edizione, ma che edizione? Ed è l'ultima trasmissione di dicembre, dai Allora, è la prima, eh? Sono piaciuti almeno a dicembre, ne abbiamo venduti parecchi di questi fili, vediamo un pochettino come inizia questo gennaio Vedo un bel pubblico e questo mi fa veramente molto ma molto piacere 500 euro amiche, 500 euro 13, 16, chiusura in oro 18 carati Tra l'altro poi, una volta che si annoda Quando le annodiamo, naturalmente, saranno ancora più lunghi i figli, eh? Annodati e amiche sono ancora un pochino più lunghi i figli Grazie caro pubblico, grazie mille care amiche per tutte le prenotazioni che state facendo E andiamo avanti con... vediamo Cerchiamo qualcosa di convincente Cerchiamo qualcosa di convincente ancora Approfitto con bel pubblico Andiamo a vedere l'otto numero 417 E qui si parla amiche di quasi tre e mezzo amiche di cassa Alale Se fossero brillanti a oro Qui 30 mila euro ci vogliono tutti Se bastano, se bastano, eh? Se vi toglie, avete a togliere la soddisfazione invece di... vedete Fa veramente grande figura, tanta figura Suonati molto molto bene questi Ovviamente siamo... sarai capricorno anche tu Perché anch'io ho fatto il compleanno il 7 e oggi cos'è? Il 10 Quindi... Dimmi qualcosa che non capisci? E non chiedi a me? Cos'è? L'otto 18, quattro... Allora, l'otto 18, vediamo un po' Quattro centimetri Stavo... Sono piaciuti almeno a dicembre Ne abbiamo venduti parecchi di questi fili Vediamo un pochettino come inizia questo gennaio Vedo un bel pubblico E questo mi fa veramente molto ma molto piacere 500 euro amiche 500 euro 13, 16, chiusura in oro 18 carati Tra l'altro poi, una volta che si annoda Quando le annodiamo Naturalmente saranno ancora più... Più lunghi i fili, eh? Annodati e amiche sono ancora un pochino più lunghi i fili Grazie caro pubblico, grazie mille care amiche per tutte le prenotazioni che state facendo E andiamo avanti con... Vediamo... Cerchiamo qualcosa di convincente Cerchiamo qualcosa di convincente ancora Approfitto con bel pubblico Andiamo a vedere l'otto numero 417 E qui si parla amiche di quasi tre e mezzo amiche di cassa Alale Pogli e tennis fossero brillanti a oro Qui 30 mila euro ci vogliono tutti Se bastano, se bastano, eh? Se vi togliate la soddisfazione invece di... Vedete, fa veramente grande...